Ciao ragazzi, l'hype per me è molto alto perché ho appena ricevuto nuove informazioni riguardo alla 5.5 che sto aspettando da tanto tempo In realtà però sono rimasto un po' deluso dal fatto che ancora non avremo la battaglia con Ereshkigal Però comunque avremo nuove instance e nuove mappe Parliamo subito invece di quella che avremo nella Tower of Eternity Abbiamo già l'entrata che è chiusa, che è Art of Memory Qui questo è il luogo dove viene classificata, smaltita e distribuita il flusso della conoscenza di Aion Quindi qua è un altro pezzo della Tower of Eternity dove gli Isiani e gli Asmodiani andranno per cercare di recuperare la conoscenza necessaria E affermare l'instabilità del flusso etereo Quindi questa è una Poi avremo, penso, una nuova instance PvP, non ne sono sicuro Adesso comunque vi faccio vedere dal sito internet Vi lascio il link sotto in descrizione Questa, che è Windy Gorge Questa è una città Jotun in cui si pensa si nasconda un antico artefatto che è il cuore della conoscenza Quindi penso che sia un instance PvP perché proprio fa riferimento a una battaglia tra Elisiani ed Asmodiani in questa città Jotun Però non ne sono sicuro, le informazioni sono molto labili, sono molto provvisore che sono nuovissime Cioè neanche in Corea sono uscita, guarda sono uscita adesso in Corea Quindi non si possono neanche tradurre perché come vedete dal cursore non si possono selezionare le frasi Sono andato invece io nella pagina sorgente a tradurre questi trafiletti Però come sapete Google Translate non è il massimo per le traduzioni E quindi ho delle informazioni abbastanza provvisorie E niente, quindi questa è un'altra Questa è Art of Memory che vi ho già accennato Probabilmente per entrare ad Art of Memory dovremo come con la Garden Finire prima la Garden e poi entrare qua Che è un bel problema perché attualmente non molte persone hanno ancora chiuso Garden Vabbè, penso che fino a quando uscirà la 5.5 spero che più persone riusciranno a chiuderla Poi invece avremo un'altra instance o mappa, non ho ben capito Comunque so che si troverà sopra il cuore di Reshanta Quindi avremo una mappa o un instance al di sopra del cuore di Reshanta Dove c'è Reshkigal Perché questo viene descritto come un luogo bizzarro in cui ci sono delle streghe Sudditi di Reshkigal Che concentrano la propria forza per dar potere ad Reshkigal e quindi per la sua resurrezione Avrei sperato che questo fosse il luogo della battaglia di Reshkigal Ma in realtà viene specificato che comunque ancora questo scontro non ci sarà ancora Purtroppo per un po' di tempo Quindi spero di avervi dato delle fresche e nuove informazioni su Ion E se ho altri aggiornamenti vi contatterò il prima possibile Ciao ragazzi, ci vediamo sul server Grazie a tutti